Ancora fiamme e ancora lavoro per i Vigili del Fuoco di Ascoli che dopo aver affrontato anche durante la notte il rogo che li ha tenuti impegnati per ore in località Vallorano nel comune di Venarotta, sono dovuti intervenire di nuovo questa mattina nella frazione di Morignano alle pendici del Monte Ascensione dove si è sviluppato un altro incendio che ha richiesto anche in questo caso l'intervento di un Canadair e di un elicottero. Decine e decine i lanci con i due mezzi aerei che hanno solcato i cieli del Piceno fino a pescare l'acqua dal mare di San Benedetto. Per l'incendio di ieri i carabinieri forestali hanno intanto individuato quale responsabile un agricoltore della zona che stava bruciando alcune sterpaglie. La situazione li sarebbe spuggita di mano e sono andati in fumo circa 6 ettari tra bosco e conifere. Avendo violato l'articolo 423 bis del codice penale, l'uomo deve rispondere del reato di incendio colposo e rischia la reclusione in carcere fino a 5 anni. Nella zona piuttosto impervia hanno operato fino all'alba due squadre dei vigili del fuoco con due autobotti e 5 mezzi 4x4, due Canadair e un elicottero. Non si segnalano fortunatamente danni a persone anche se le fiamme alimentate dal vento erano arrivate a minacciare alcune abitazioni. Di qui l'appello del sindaco di Venarotta Fabio Salvi. In questi giorni ci troviamo a fronteggiare alcuni fenomeni di incendio, anche favoriti dalle condizioni climatiche. Quindi raccomando a tutti i cittadini di avere massima attenzione e cura per evitare che questo accada e a tutti quanti di tenere gli occhi ben aperti per controllare il fenomeno. La collaborazione di tutti è importante.